Assessore, il Comune ha messo in campo un'organizzazione a partire dall'unità di crisi, come vi state organizzando? Sì, con questa unità di crisi che è stata subito costituita in sinergia con la Questura, con la Prefettura, con le associazioni e con la protezione civile, ci siamo subito attivati affinché potessimo accogliere i primi bambini che sono arrivati dall'Ucraina. Sono fuggiti dalla guerra e per cui lascio immaginare come sono i loro visi. Ieri c'è stata questa accoglienza intensa da parte di questo istituto comprensivo 1 diretto dalla professoressa Grazia Angeloni, che è stata veramente veloce, insieme alle docenti e alle maestre, a fornire l'accoglienza giusta affinché questi bimbi sofferenti, estrapolati dal loro ambiente, si potessero ritrovare subito in maniera magistrale a scuola in un contesto dove rappresenta la seconda casa. Per quanto riguarda invece chi volesse accogliere questi bambini, c'è una procedura? Sì, abbiamo già costituito un modulo che possiamo trovare anche online sul Pago.pa per cui si può riempire e poi rinviare per le famiglie che volessero sia accogliere e sia in qualche modo ad operarsi, ad offrire le proprie allocazioni. Ci sta questa possibilità subito, andando sul sito oppure andando nel segretariato sociale e saranno in qualche modo smistate poi alle famiglie che chiaramente avranno voglia di fare accoglienza.